Se devo, se devo, se c'è qualcuno che deve lasciare qualcuno, sarò io che lascerò lei, scusami. Ma, e, Billy Bella è morta? Sono dentro, lo senti? Aspetta, perché, ehm, giustamente lei si è unita, ma io no. Complimenti, bella telecamera. Pronto? Adesso mi senti, vero? Sì. Ciao! Ciao! Ciao, ciao, ciao! Da dove chiama? Piacere di conoscerti. Piacere. Come stai? Va bene, tu, perché ti manco? Tutto ok, eh? Perché ti manco? Eh, perché non, eh, bisogna proprio dirlo? Perché ho 13 anni? No, magari, cioè nel senso no, perché, ehm, boh. Perché ho la figa? No, perché so, se ve lo dico, io cercavo di evitare di metterlo al pubblico, perché, insomma, lo sappiamo che funzionano queste cose. Fra, cioè, con tutto il bene del mondo, sono, siamo stati due, tre mesi insieme, quattro, quanti sono stati? Non mi rispondi più da due settimane, insomma. Sì, prima o dopo che ti facessi mia madre? Vabbè, non... Che cazzo ridi? Non c'entra niente! No, effettivamente. Eh, la comunicazione si toglie così di nulla. Io stavo cercando di spiegarmi, in ogni caso. Con mia madre o con me? No, con te. Perché non mi rispondi più neanche tua madre. E quanti anni hai, Billy Bella? Quanti me ne dai? Spero 19. Speri 19. 20. 21, 21, 22, 24, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 30. 18. 17. Grazie mille per la sub, Stella. 16. Sì! Let's go! Sì, lo so, sembra una tredicenne. Vabbè, meglio, no? Il problema è che se faccio un incidente e investo qualcuno, chiamano me e non i miei genitori. È triste questa cosa. Beh, mi sembra normale questa cosa, scusami. No, beh, le responsabilità io non le voglio. Non le vuoi? Eh, sì. A me piacciono le responsabilità Visto che la nostra relazione l'hai presa molto seriamente Tecnicamente sì Prima che tu Inziassi a presentarti alle persone Dicendo piacere billi bella Io l'ho presa molto seriamente Anche mia madre ormai mi conosce così Lo sai che ti ho blastata di brutto? Ma sì perché fai solo cose inutili tu Sì vabbè fate quello E quando siamo stati Al Torino Tech Week E quando poi Perché non ci siamo conosciuti lì? Sì Il giorno dopo che sono tornata a casa E ho fatto il mio just chatting E ho raccontato di questa persona non facendo nomi Nella realtà sì Che si è rappresentata a me Dicendo piacere billi bella E ho detto cringe Ah vabbè più o meno siamo sul tuo target No in realtà lì Era tutta una questione In realtà non ho capito bene In che contesto fossimo Anche perché dovevamo fare un talk Insieme purtroppo a Hank Che è il momento in cui l'ho conosciuto E tra l'altro se vuoi sapere La prima volta che l'ho conosciuto Mi ha parlato di una soluzione per i pedofili Quindi ero già un po' in difficoltà Poi ti sei presentato tu e basta Tra l'altro Hank vabbè normale Strano che cerchi Ma vabbè questo non si può dire E cosa fai nella vita Allora in teoria Streamo Ma sappiamo tutti che non è un lavoro Quindi niente Vivo Vivo Sopravvivo Faccio Live to Twitch E poi la radio Sei in difficoltà Ma tu non sai già cosa faccio Vabbè C'era qualcuno che non lo sapeva Ma sei ancora nella TikTok House Non sono mai stata nella TikTok House Fai Radio 500? No No faccio RDSLX Effettivamente ma noi abbiamo un programma di gaming Solo che quelle cose non vanno di moda Quindi non vanno virali su TikTok Vabbè ci sta È un altro mondo Io invece faccio Radio 600 È una mia radio personale su Twitch Ah E come ti piace? Sì C'è un format settimanale Che si chiama Groda Musicale E c'è anche Silas Nautilus Lo Scav di Tarkov Maradona E Maradona Sì Te invece di cosa parli a RDS? Davide se lo scopo È un po' maleducato così però In realtà è più maleducato se non mi mudo Cioè a me dà tanto fastidio quando le persone non si mudano Perdonami Ma no Poi non mi parlare tu nelle maleducazioni ma Guarda Di cosa? Ma l'educazione Ah Capito E che format fai a RDS? In realtà ormai prima si parlava più di videogames Invitiamo persone Tra l'altro A questo punto se vuoi venire a fare qualcosa nella TikTok house Posso 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 guadagnarci Posso guadagnarci dei soldi? Sì Ok Si apre l'infanzo poi Ma non Non dicevo Cioè Io vengo a lavorare Poi posso venire a lavorare per RDS Chiedere se lo puppa al bomber Ti dobbiamo fare la domanda Ti dobbiamo fare una domanda un po' personale Dimmi Puoi anche non rispondere Ok Lo puppi al bomber Generalmente Volevo dire Sei fidanzata Guarda In realtà Non lo dico Però No Però mi dà molto fastidio dirlo Perché ti dà molto fastidio dirlo? Perché È cringe secondo me È cringe essere fidanzati O cringe dire di essere fidanzati? Non c'è cringe dover parlare della propria vita privata Su una piattaforma in cui lavori Sono abbastanza d'accordo sì Anche io sono Per questo l'hai chiesto Anche io sono abbastanza riservato Cioè quindi non parli della tua vita privata? No Parlo delle stronzate che faccio Il fatto che parcheggio davanti al garage Che prendo Di quanto odio i bambini E basta Non parlo della mia vita privata In termini di relazioni Cioè quindi se Cioè se io adesso Noi adesso Noi adesso Eh? Noi No scusa c'è l'anima Se noi adesso Se noi in questo momento Fossimo fidanzati Non vorresti un figlio? No Vuoi farlo con la tua ex Se vuoi il figlio Come mai non ti piacciono i bambini? Gli odio Sono insopportabili Piangono e basta Poi Sono inutili Dicono tutte così Poi Quanti Lo sai quanti anni ho? 35 39 42 42 42 Sì Parti di merda Oh scherzo Riporti molto bene Eh grazie grazie Parti di merda A 43 anni no A me sembri più giovane Dai Sì Quanti me ne daresti? Dai sul 36 37 te ne darei Infatti quanti ne hai? 29 Di dove sei? Billy Bella Sono di Varese Varese? Conosci Varese Varese Ah Varese Eh Conosco Eh conosci? Eh no Città della Lega Varese No non conosco mai stato a Varese Cosa c'è di bello a Varese? A parte Billy Mia madre Poi Poi c'è Beh la città della Lega Cosa vuoi che ci sia di bello a Varese? Dici neve o neve? Neve Ok Senti Se Se c'è una persona che ti piace molto E Devi uscirci un Un giorno Dove la Dove la porti? Se c'è una persona che ti piace molto Dove la porti? Sì In chiesa In chiesa Primo appuntamento in chiesa Perché ti piace pregare In generale Scusa Che Sono un po' emozionato Fa caldo Eri una vita Eri un prete Nella No Perché in chiesa? Cosa Cosa fai in chiesa? Sto schiazzando In chiesa Ti confessi col prete? Sì Hai mai sentito parlare di quei preti che hanno dei figli? E Ho sentito di preti e figli Ma non correlati Spesso e volentieri No Quelli di preti e bambini Però Sì sì Fili e bambini Eh no Ci sono dei preti che hanno dei figli Eh Sì Te che ne pensi? Che già hanno scelto una vita di merda Se non possono nemmeno trovare Eh ma così è È peggio ancora di più Perché Hanno scelto una vita di merda E hanno anche un figlio Quindi è ancora peggio Vabbè Poi tanto Non è un figlio Dovresti sconoscerlo Quanto prete Credo no? No Non credo che tu debba Disconoscerlo Beh Non Sì dai Comunque non è che puoi averci Troppo a che fare Eh Quindi dove Dove porteresti Un tuo primo first date Su Streamyard Sì Quello lo faccio anch'io Ma Nella vita vera Ma ti assicuri Prima che abbiano 18 anni No perché non ti interessa Non Lo sai che Perché le persone dicono Che sono misogino Sì Anch'io Cioè sei misogino O lo dici di me Lo dicono Di me Vatti 5 Mi stai toccando Però sono consensiente Quindi non posso Svelo denunciare Grazie Vabbè Perché Perché le persone Dicono questa cosa? Sarà vera? Boh Chissà Sì Eh Non ho ancora risposto alla domanda A quale domanda? Cosa? Dove porterai Certo Non ho idea A mangiare sushi Chi fa OnlyFans è Troia No scherzo 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 Fa OnlyFans è Troia No 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 Non ho detto questo Ho sbagliato Ho sbagliato chat Quanto faresti pagare Un tuo abbonamento Su OnlyFans? Nanni Dipende dal contenuto Ah E Non lo so Di contenuto più o meno Succinto Non lo so Che Vedi tu Come te la senti Una volta L'ho aperto Sei una Troia Sì Anch'io Però non è un'offesa Cioè Io Io quando dico Troia Non lo intendo con malizia O con offesa È tipo Un Un attitude Essere Troia Sì Cioè lo può essere anche un ragazzo Una caratteristica Sì è vero Sì Infatti sei Troia Sì Eh Una legge per tutti E per tutti E Comunque Una volta ho aperto Alifan per un mese Poi me l'hanno fatto chiudere Perché Dopo Eh perché c'è la possibilità Che Insomma di compromettere Dei lavori E Vuoi sapere Quale contenuto Ho pensato E Sì Ho fatto Ma non ho pubblicato mai Sono molto emozionata Vai Dimmi È molto pubblicato È una cosa che non rifarei Perché 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 praticamente È risultato un po' Strano Però è presente Uno dog Sì Lo hai visti Ho provato a fare la stessa cosa Ehm Infilandovi Il mio pene Però Ci sono state Delle Contreindicazioni Cioè Per come me l'ho immaginato io E Lo dog di solito L'hanno mangiato No Lo dog di solito Esce Dal panino Cioè è più grande Nel suo caso Non usciva Non usciva E E poi Tutte le briciole È stato molto fastidioso Togliere Ma non sei molto originale Come no Perché No Eh no Dennis Dose Io l'aveva fatto con le patatine nel culo Quindi Eh vabbè Io ho fatto lo dog Scusa Che c'entra Eh vabbè È sempre Un po' Un po' visto rivisto Potresti applicarti un po' di più E cosa faresti Però vabbè Se non lo vuoi più fare No io volevo davvero aprirlo L'Olyfansa Beh faresti bene Sono free Free money Sì Però con tipo Le zampe dei gatti Cringe Vabbè Che cazzo C'è gente Che fa E poi si mette qua E io non posso È lo stesso suono È lo stesso suono Che fa il mio gatto Quando lo prendo a pedate Nel culo la sera Per sfogare la mia frustrazione Nella vita Perché prima Lo faceva tuo padre Su di te Sì Non farei mai Del male al mio freki E Non mi ha ancora risposto La domanda Ancora Ti ho risposto invece Cioè sei davvero così Riservata al punto Di non dire pubblicamente Dove porteresti una persona In un primo appuntamento Ti ho detto Ah sì? Non l'ho sentito Sì Allora Grazie mille per la sub Stella E ricordate sempre Natti Suga A bere un gin tonic A bere un gin tonic Quindi la sera Sì Perché Sotto sotto speri Poi di fare Sesso subito La prima sera Dopo il gin tonic No No Non prima Dei matrimoni Secondo te Primo appuntamento Sesso Sì o no? No Secondo? Dipende Billy vorrei fare Tre appuntamenti Con te Ma sono sicuro Secondo c'è il dubbio Il terzo è confermato Vuoi fare tre appuntamenti Con me? Però Non mi hai chiesto Una cosa Cosa? Chi dei due Passivo Io Allora sì Si dici così Poi voglio vederti Se fra tre mesi Stiamo insieme E ti chiedo Di incularmi Con un dildo Finto Ecco se lo fai Davvero oppure no No cazzo Direttamente Beh ancora meglio E Qual è La prima cosa Di una persona Che vedi Quando ci esci In senso Diciamo romantico Cioè cos'è Che ti colpisce Di più Se arriva Con un cappello Tipo un cilindro Da mago Ce l'hai un cilindro No Ti piacerebbe avercelo Eh Sì Sì Non so Cosa Mi potrebbe servire Però Vabbè così Ci sono delle cose Che ti piacciono Quando le vedi Le gambe Ah no allora Le cosce Le gambe E Poi E Sai cos'è Che odio Che cosa Le 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 unghie lunghe No le unghie lunghe Le unghie lunghe Sì Queste sono lunghe No Sì anch'io Odio le unghie lunghe E Cosa Qual è il pasto Perfetto Per un primo appuntamento Il Pasto Il pasto Sì Il cibo Il pesce Il pesce Io odio Dog Le ragazze con le tette grosse Anch'io le odio Ti piacciono le mie tette Fa vedere Sì Sai cosa Non mi piace a me Cosa Persone false Era un'accusa Oh no Io sono Una delle persone Più Oneste Genuine Che tu Possa mai conoscere Secondo te le donne Dovrebbero guidare Certo Votare Certo Sai cosa odio delle persone Sì La falsità Sai cosa penso delle donne che guidano Non dovrebbero farlo No Secondo me Tra tipo Trent'anni Guideranno Uguale agli uomini Non è colpa loro se non sanno guidare bene Generalmente Sono d'accordo È colpa della società È sempre colpa della società Perché non le leviamo ora Non leviamo il diritto Al voto La possibilità di guidare Tra trent'anni Ma nella vita bisogna aver pazienza Se trovi qualcuno davanti che è più lento Aspetti È per questo che chiedi tre appuntamenti Non l'ho capita Ma perché aspetti Eeeh Eeeh Sì La puppata Tra l'altro Sembra una cosa molto maschile quella Questa? Sì quello Proprio la forma di quella borraccia Perché è come È come i ragazzi di solito Eeeh Cioè proprio Borraccio dei punti ragazzo Tipo il neme Cioè che Se Quando parlano Del proprio pisello No Sembra Ah il mio pisollone Grosso E poi in realtà è la cannuccina in cima È piccolo e fastidioso si dice Esatto Eh Ognuno c'ha il proprio Secondo Tu come lo ritieni il tuo nonni Eeeh Senti Secondo me È abbastanza grazioso Secondo me è abbastanza grazioso Nel senso che È pritti È pritti Sì Però c'ha una particolarità interessante Posso indovinare? Dimmi Vende a sinistra No Sbagliato Vuoi riprovarci? No No pensavo fossi uno Eeeh È un po' tipo a uncino Cioè non così Non è come la mano È così agganci bene È una buona tenuta Non è Non è come il capitano uncino È Cioè Perché un cazzo ho detto le immagini così E invece il mio è tipo così Verso l'alto Quindi cosa succede? Che quando entra dentro Agganci No non è che agganci Strofina sopra E non so se lo sai Ma sopra comunque È una zona abbastanza erogena Nel corpo delle Delle ragazze Quindi è incredibilmente funzionale Sì Sì Forse sì Non lo sapremo mai Che tipo di personalità ti piacciono? Piaciono quelli un po' Irruenti Ma anche molto pacati Stanno il gucci Piaciono quelli che parlano un po' Francese Ma allo stesso tempo che insultano i francesi In francese o in italiano però? In italiano Ah francesi Mangia baguette Quelli che dicono Moglie vuoi dei paesi tuoi Eh Moglie vuoi dei paesi tuoi E non prendono in considerazione i ragazzi che stanno sotto il po' Terroni? No grazie Mi piacciono quelli che arrivano da me e mi dicono Oggi ho fatto Un buonissimo Al forno Oggi ho fatto un buonissimo Al forno Cioè mi hai pensato che un Un bambino nudo Assomiglia tipo Ma si è sentito? Eh? Il pollo Un bambino nudo? No 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 Non ho mai pensato a bambini nudi A me Fa ridere questa cosa A me piace che i ragazzi fanno ridere Pensavi eh Di cogliermi il fallo E invece Sono abituato Perché Ho già chiesto il giudice Senti Ehm Vieni invitato Vieni invitata Ha detto oh perché non Per corretto Per rispetto Ehm A casa Di una persona come primo appuntamento Quella persona si dà il caso Potrebbe essere Estraemente affascinante Simpatico Parlare cinque lingue Ehm Aver lavorato otto anni in cucina È così intelligente E premuroso Che non cucinerà per te Pensi Sfrutterà l'occasione Per poter cucinare insieme E condividere Un bel momento E magari Insegnarti qualcosa Perché E qua è una parentesi Ricordiamo che Ehm Momenti condivisi E delle memorie Che si fa tesoro E sono quelli che più ci arricchiscono E ci portiamo avanti Fino alla fine della nostra vita Con felicità Ma a me non pregheranno tanto Con felicità e con tristezza Perché le emozioni vanno sapute accettare Entrambe Ehm Questo ragazzo Ti Ehm Prepara tutto Per preparare degli gnocchi insieme E cuciniamo Cucinano Cucinano Non è noi Ehm Questo ragazzo Ehm Cucinate Degli gnocchi insieme Poi li mangiate Alla fine Faresti sesso Sì o no Con questa persona E comunque Li so tirare i pugni Vuoi provare? Sì Dove? Adosso qualcosa Prechi Magari non ha il gatto Non è il gatto È mia mamma Allora sì Prechi Pone Allora poi arriva Con i suoi tempi Molto lenti Sì Ma secondo te Dimmi Quanto deve durare Un rapporto sessuale? Ehm Abbastanza da farti venire Eh? No volevo dire Su 40 minuti Visto? Che magnificenza Sì In frattempo qualcuno sta Ti sta passando un camion sotto casa Vivo vicino all'aereo Sì All'aeroporto No all'aereo All'aereo Non solo Comunque 40 minuti No Troppo? Un po' Vabbè ma Cioè Con tutti i preparativi Ok allora No E quant'è per te? Un minuto e mezzo Compreso anche di doccia E Beh con me stai larga allora E sigaretta Ehm Io Ti vorrei fare delle domande Ma hai detto che Non vuoi parlare della tua vita privata Quindi è un po' difficile Fammele Hai mai squirtato? Sai chi mi ricordi? Sì Greenwood Porco dio scusa Ti chiedo veramente scusa Chiedi scusa a te stesso Shut down Ti chiedo veramente scusa Ehm Adesso mi faccio un po' schifo Però Se posso dire una cosa Io almeno I capelli Non li ho Meglio me li raso Quindi non c'è rischio Che mi diventino Oliosi E sudati Però Sei una gran testa di cazzo Sì Anche Anche senza capelli E mi chiamavano I miei I miei visitori Mi chiamavano Pinolo O Pinolino C'è un po' La testa Pinolo O anche Aluccio Aluccio Billy Bella Billy Bella More like Billy Astruzza Ah si God damn Qual è il tuo Deal breaker Deal breaker Non so se sai cosa vuol dire Deal breaker È tipo È un'espressione Non è un sinonimo tipo della red flag Non è No Sì tipo È un'espressione che Con cui si intende Un particolare Una caratteristica Un Un Punto fisico Un comportamento Un modo di Un vestito Un'abitudine Un Che ti fa dire no Esatto Cioè che ti fa interrompere Una red flag Sì però aspetta Perché red flag È Prima Prima Ed è Anche dopo Cent'anni di matrimonio Scusa stava segnando Maradona Non sentivo altrimenti Ti piacciono le persone Non mi hai risposto Ti piacciono Ti piacciono le persone coscienti Sì Sì Quelle che respirano Sì sì Anche sì Sì Anche Ok ok Cos'è che mi hai chiesto Una Un mio Ah ok Ci senti bene dalle cuffie Abbastanza sì Non so cosa Cosa senti questo momento Nelle tue orecchie Sì La tua voce Solo Sì Sì Anche tipo Qualcun altro No 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 Scusa È che stavo C'è un saggio di danza stasera Devo fare pratica Ogni mezz'ora Vedi che puoi entrare Nelle tiktok house Domani è la mia live Settimanale Dove imparare Dove imparare un nuovo balletto Quindi non c'è niente Che ti sta dando fastidio In questo momento Oltre alla mia voce No 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 Anzi Non hai una bellissima voce E Qual è il tuo deal breaker Quindi Ehm Le cose Un po' Mi spaventano un po' Le Scusa che puoi ripetere Che sono un po' Sordo Le cose un po' No stavolta Era un alert Di una sub normale Non Con il text speech Quindi c'è Di solito No no c'è Perché quando c'è la sub A volte Maradona fa goal O no Quindi quando fa goal Non sento Facciamo le mani E quindi cosa Cosa Cos'hai dentro Io Qua dentro La croda Ah dentro le orecchie Probabilmente il cerume Guardi un attimo le cuffie Dai Sì Facci vedere La tua Avvicinare al microfono Vediamo se funziona Come? Allora non lo puoi sentire Avvicinare al microfono Ma c'è la riduzione del rumore Ah cazzo Lascialo lì Ok Fra mi dici cos'è questo deal breaker No basta Rispondi Allora Allora Di solito Le persone che hanno La turetta Lo dicono Per evitare Che una persona Poi Faccia Rida Davanti a queste situazioni Quindi nonni Magari Capita Non ho la turetta Volevo dimostrarti Quanto irruento sono Comunque te l'ho detto Le cose un po' Un po' curve Un po' Doncino Non so Sì a me fanno schifo Le tette piccole Allora Hai guardato le tette No ho guardato il gatto Di che colore ho gli occhi Fra Perdi Quali erano quelli di mia madre Ma non si vede Non si vede il colore degli occhi Dalle live Scusami eh E quando ieri ho visto le tue foto Non guardavo gli occhi Nemmeno le tette Ma non ho la foto delle tette Quindi avrei guardato Qualcos'altro Eh Sì Che cosa Perché sei stato con me Tre mesi Perché Quando parli Sei in prima te ho KS E questa cosa mi fa veramente eccitare tantissimo Ti piacciono rinconi Come? Mi devo male forse Ti sei Ti faccio una domanda un po' personale Vai beh Ti sei mai dissociata in vita tua? Sì Ok Tu? Eh sì Succederemo un po' Però poi ho smesso Hai smesso Ti sei mai drogato? Sì Di che cosa? Cos'è che cosa hai assunto? Cocaina Marijuana Ashish LSD Ecstasy MD Amfetamine Metanfetamine Funghetti Tartufi Hai smesso? Sì Hai mai detto Cazzate nella tua vita? Sì Bugie? No Cioè Dipende in che contesto Le hai dette sì o no? Beh sì Le avete tutte le bugie Nella propria vita Sì L'abbiamo Appena notato Non Forse Quella è l'unica cosa seria In tutta la nostra conversazione Quindi mi stai prendendo in giro Se tu mi hai chiamato qua Per prendermi in giro Io ti ho chiamato qua Per un motivo ben preciso E lo sai benissimo Prima Mi chiedi di uscire Tre volte addirittura E poi mi perculi Sai chi mi ricordi? Greenbaud No il mio ex Era Greenbaud? No Perché è finita la tua relazione con il tuo ex? Perché Lui doveva andare in Spagna In Erasmus E io Preferisco essere stupida che cornuda Che non sono due cose che stanno bene insieme Però fa niente Le ho messe insieme lo stesso Quindi Stai dicendo che Nelle relazioni sentimentali Hai un grave problema di fiducia Verso il partner Tu ce l'hai? No Di fiducia no O partner Non ha nessuno Nell'uno Nell'altro Sei veramente tanto simpatica Sai E' proprio questo il bello delle persone Secondo me Una delle loro qualità migliori Che quando le guardi E' per una pausa Tra una parte e l'altra E' appunto Per Godermi il silenzio Quindi non sai No perché Comporre una frase Tutta insieme No perché Quella Quella pausa Quando No la pausa Quel Quella qualità Nelle persone Che conosci Che non sapevi Che avessero Perché ovviamente Lo conoscevi Dove Non serve niente E loro riescono comunque A farti sorridere E a farti sentire bene Solo guardandole Questo sei tu per me Questi che le donne Siano un oggetto Un invocatore Ha dejato la parola Eeeh Vedi Voi particolarmente ridere Ehm No Assolutamente no A meno Che non siano consensienti Di volerlo esserlo Magari In tema sessuale Capisco Un'altra domanda Che vuoi farmi Che ti vuole fare La tua testa Eeeh Ce n'è una Sei più tipa Da sesso veloce O sesso lento Secondo me questa è una cosa Molto importante In un minuto e mezzo No no Dico a livello di ritmo Cioè che duri un minuto Come 20 No no Per me è un minuto e mezzo Preciso Va bene Un minuto e mezzo Eh E poi dici Tu Dipende dalle volte Va bene Ma in quei minuti Se usi la violenza Sì ma in quei minuti e mezzo Il ritmo È veloce o lento Tipo A ritmo È presente il waltzer Questo è il waltzer Del mio Cazzino Questo è il waltzer Che fa La 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 E poi uno Finisce Esatto Sì esatto Cosa indosseresti Per un primo appuntamento In realtà Non lo so Tipo Un vestito da troia Descrivimelo Un vestito un po' Un po' bucato Da 1,50 euro E eventualmente Poi Strappare Non sono un grande fan Di strappare Le cose A letto Credo che sia abbastanza Irrispettoso Non guardarmi così Non guardare in alto A sinistra Quando guardo Così Guardo te Cioè questa te E allora non guardare di là Cioè qua No no Così Non guardarmi Allora Va bene Non guardarmi Quindi tu porti rispetto alle persone Fra la base di tutto il rispetto Se non c'è rispetto Già fa Allora non A me piace un po' l'arroganza La maleducazione No ma infatti Io non porto rispetto a nessuno Ti fai rispettare No 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 Sono uno zerbino Sei uno zerbino Sono uno zerbino Sì sì Quindi Posso Pulirmi le scarpe Su di te Puoi fare Poi anche Cacarmi addosso Se vuoi Non che uno lo faccia Normalmente Con gli zerbini Ma ti fai pagare Ti fai pagare Come si fanno pagare a Dubai Sì Cioè no Non mi sono mai fatto cacare addosso Però non è una cosa che vorrei provare Mi fa un po' schifo sinceramente Anche gli zerbini mi fanno un po' schifo Infatti non sono zerbino Io sono uno dei Delle persone più integerrime di questo pianeta Abbiamo finito sto gioco Che cazzo c'hai nelle cuffie Tiralo fuori Senti Non posso Non è colpa mia Chi cazzo è? Il Brucato È un uomo Coglione È Simone Brucato che è geloso Ma non può tornare a giocare a Rust E non rompere i coglioni? Oh Ciccina Ciccina Cosa Oh Ciccina Cosa c'è da dire con chi gioca a Rust? Oh Bilibellina Eh Basta la cresta Chi è che ha fatto la domanda dello squirt? Io Sì 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 No no Ti spiego Ti spiego Simone è quello degli effetti sonori No? Quello di Paperissima Ci 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 Le domande sono Sono L'unica domanda che mi ha chiesto Simone di chiederti è se lo puppavi al bomber Quella è l'unica domanda che E poi tutto il resto sono suonini canzoncine spari E cose che fanno divertire i bambini di merda imbecille che mi seguono Io sono responsabile della tua chat Sono io responsabile Sì sono estremamente responsabile della mia chat Assolutamente sì Beh non mi sembra stia andando molto bene allora Ah scusami eh Cosa Io sto dimostrando in questo momento Che comunicare con il sesso opposto è facile Questa è la morale che si porteranno a casa oggi Sì ma a parlare sono bravi Ce la fanno Sono bravi Ma che sono bravi a parlare Non riescono manco a iniziare una conversazione No la iniziano Quanti ti scrivono mediamente al giorno? Per cioè confini No? Non tanti Non tanti? Un paio Un paio al giorno di media E cosa fai di solito? Porti avanti le conversazioni? Sono sempre gli stessi Ah Porti avanti la conversazione O accanni appena capisci No no porto avanti Per gusto personale O perché speri che diventino sub Per mantenere la sub No perché poi mi invitano in live E io mi faccio conoscere Quindi sei una cloud chaser di merda? Cioè la morale qua è una sola Questo devi insegnare ai ragazzi in chat Sono tutte così Sono tutte troie Questo l'hai detto te Io ho detto così Ehm Vabbè lo dico io Posso dirlo? Ma vedi Tutte le persone che sono qua Tutte che sono passate sul mio canale Chris, Fitz Michelle Studi Time E adesso Billy Tutte così Forse dovresti cambiare target Hai detto che ti piacciono quelle Anche le persone che non respirano Quindi magari Nessuno ti sfrutterà Eh ma non posso portarle in live loro Più che altro Non lo so Se devo essere sincero Qua forse mi aprirò un po' Magari Non te ne frega neanche niente Ehm Però ormai mi sento di là sta cosa Sono un po' Sono un po' offeso Cioè mi sento Mi rattrista un po' sta cosa Perché comunque Ehm Per quanto uno GOOOOOO È un pime d'oro GOOOOOO Perché Comunque Una persona Per quanto provi A Ehm Ad aprirsi A dare occasioni Ma Sia in amicizia Che nel lato romantico Perché comunque Cioè La verità delle cose È che Da streamer È difficile essere capiti dagli altri Perché Le altre persone Non capiscono La Diciamo Persistente Persistenza lavorativa Che devi dare Ogni giorno Nel nostro lavoro O nei nostri vari lavori Dell'internet E quindi È molto più facile Relazionarsi Con una collega Tra virgolette Piuttosto che Con una persona esterna Perché La persona esterna Farà ancora Farà molto più fatica A capire Quello che Già Fa fatica A volte A capire Una persona Una collega E io E io ci provo Ci provo Ci provo Ci sono anche gli uomini Ci provo Ci sono anche gli uomini Ci provo a Pupparlo al bomber Però è una cosa che Non mi riesce E quindi Invito le ragazze Una è fidanzata Quell'altra è fidanzata Quell'altra dice di no Quell'altra viene qua Solo per prendere gli spettatori Io non so più cosa fare La verità Dove sta? Sarà nel fatto Che io sono solo Da mesi e da anni Adesso sono triste Anna Maria Trazioni Gifted A tier one sub A Billy Bella Cappella Grazie Potrebbe piaciuti Grazie a Anna Maria Trazioni Per la sua gifta A Billy Bella Cappella Billy Bella Cappella Benvenuta Benvenuta Nel Tra i naniers Benvenuta Quindi? Hai mai pensato Di fare un'esperienza Con un uomo? Ma io Sai Devo essere sincero A me la penetrazione Un po' spaventa Vabbè puoi farla tu Eh ma spaventa uguale Mi mette in imbarazzo Perché secondo me Fa oggettivamente male Grazie L'abbonamento regalato Billy Bella Cappella Grazie mille Fa oggettivamente male Io ho baciato uomini Ho baciato ragazze transessuali Non c'è nessun problema Però Poi nell'atto pratico Ma poi non provo neanche L'attrazione di base Verso i ragazzi Cioè sì So a riconoscere Un bel ragazzo Guarda che bel bomberone Però Più di lì non vado Dovresti provarci fino in fondo E magari Non ti trovi più Prendi una persona Chi prenderesti Per provare questa esperienza Ma se ti va Evi detto che sei un uomo Potrei Vorrei provare Non ancora Sto aspettando che mi cresca Perché Scusa Ciao tizio Potresti provarci con lui Tizio non ti sentiamo Tizio non ti sentiamo Tizio non fincerai Tu ti hai letto Ho letto Simone Ma vai a farti le pippe Vai a farti le pippe Hai rotto il cazzo Vai a farti le seghe Non rompere i coglioni Senti Billy Clarissa Vedi che poi mi chiami Billy Clarissa Bellissimo nome tra l'altro Clarissa Da suora No Non è vero È un nome molto Molto Cioè Diciamo Doppia impressione Cioè da una Clarissa Mi aspetto Un'immagine pura Ma sotto sotto Proprio una zoccolaccia Di quelle Temprate No è più Esperienza personale Tipo più Patrick Stella In che senso È presente Patrick Sì Quello di Spongebob È che fa Patrick Stella È un po' tipo tonto No è un po' tipo Immobile È presente quando ti Ti lanci sulla sabbia E rimane Ah un pezzo di legno Proprio Dici te Un tronco No non sono di legno Perché Le stelle marine Non sono di legno Sì no Dicevo Cioè come Il classico Le ragazze stelle Eh no Non si dice da me Le ragazze stelle Da me si dice Da me si dice Un ceppo di legno O la candela Cioè quelle che Sembrano morte Che stanno così Tipo Giovanna d'Arco Sì no Lei è morta Però non so se Cioè poteva essere Anche la candela Eh Lo è stata Quanto meno No non sono ragazze passive Attenzione Quella è un'altra cosa E sei più Ma non nel sesso Nella relazione in generale Sei più Diciamo Leader O un pochino più Seguace Non nella sfera sessuale Dici Sì in generale Che tanto poi si riflette Anche lì Guarda Sono una ragazza Molto molto tranquilla Sono Sono super tranquilla Il problema è quando Mi partono certi trick Del cazzo Inutili Nel senso Che Cioè sbotti di rabbia Tipo No Ogni tanto mi sveglio Voglio mettertelo nel culo Vabbè ci sta Non è una cosa Che mi spaventerebbe E Sì 360 Non scopa Non scopa Avevo pensato Avevo pensato una battuta Tra l'altro Di farti prima Che tu entrassi Ma non Me la sono dimenticata Però era divertente E Demenza segnale Ci sta Sono 39 anni Cosa ne pensi Cosa ne pensi Degli streamer Maschi di Twitch Anzi Cosa ne pensi Di Twitch Italia Cosa ne penso Di Twitch Italia Sì In generale Ehm Oddio Ci sono persone che Grazie per la sub Sicuramente non dovrebbero Resistere Resistere Ehm Sono tanti Sì Ehm 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 Perché Cioè Hai detto Nandi Mi hai paragonato Al gabrone Cioè Secondo te Io e il gabrone Siamo su Sai cosa Eh Però Così sei maleducato Mi piace Avvo Grazie Che dobbiamo fare Continua a fare piccioni Tu cosa ne pensi Delle streamer Italia Di Twitch Italia Donne Particolare Generalmente Cringe Se ne salvano poche Sì Sì Chi è cringe Secondo te Cringe Rubino Matteo KS Greenbound Però Cringe Non 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 ricercato Capito Cioè Involontario Ah Delle donne Ehm Ma non saprei Se lo dico Si offendono Fra Perché? Direi Non lo so Kasumi Ehm Sai qual è la realtà Che seguo Poche streamer Ragazze Il cerchio Si chiude L'unica L'unica Che Le uniche due Che seguo Sono Michelle E Chris Fizzoni Tanto Però dipende Dagli orari Che faccio Anch'io Lavoro Per il resto Poco Ma perché Fa più che altro Fanno just chatting A me non piace Chi gioca Da guardare Ah Per questo Ieri Mentre stavamo Giocando a Valorant Che ho fatto? Guardavi la live Ho guardato la live Ieri Sto scherzando No può darsi Non mi ricordo Le cose io Ma sta ritendo Non parla Sta zitta in live Cosa ne pensi Del Maceo Come piacciono a te? Come? Come piacciono a te? Ehm Sì 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 Assolutamente Assolutamente sì Ma Senti Clarissa Io ti devo dire una cosa Però è una cosa È vero Lo so che è difficile Un secondino Cioè è difficile Ritornare un po' Sui propri passi E riacquistare Questa serietà Che non c'è stata Fin dall'inizio Ti chiedo Gentilmente Se puoi fare Questo piccolo sforzo Per cercare di indirizzare La conversazione Diciamo Ad un livello umano Tra Tra me te Ehm Senti io sono innamorato Di te Ehm Ehm Non Non so cosa risponderti Ti puoi comunicare A fischi Non lo so Get calling No no Non fischiavo A te Fischiavo Perché mi hai fischiato Se volevi comunicare A fischi Posso fare anche qui Ehm Le provo tu Ti dispiace Ti dispiace Di cosa Impreciso Cioè di Particolarmente Dispiaciuta Ehm Che tu abbia smesso Di drogarti Mi dispiace Sai che ti dico No Che per il tuo amore Io Inizierei A La mia tossicodipendenza Perché l'amore cos'è Se non Una droga Una droga che Sì Avrà Effetti Collaterali Che può lasciarti Stordito Che può Farti del male Che può farti piangere Che può creare Dipendenza Delle volte Ma è anche Esplorazione Fantasia Ricerca Sicuramente ci spendi Un sacco di soldi Quello sicuramente Quello sicuramente Soprattutto per persone Come te Immagino Claude Chaser Sì Claude Chaser Del cazzo Sciuccia Banconote Dal portafoglio Ma io tanto Sono povero Devo fare Devo fare Ma sono ubriaco Io non si capisce Proprio un cazzo Che appare KW Ciao Nonni ma te Quando sborri Fai Non ti dispiace Vero Un po' sì Vorrei Avrei voluto Che questa Chiacchierata Non fosse finita mai Sì Secondo me La verità è un'altra Te vorrei dire Prima che tu Te ne vada Dopo questa Nostra prima Conoscenza Io capisco Benissimo Che tu Provi Estrema Attrazione fisica Nei miei confronti E anche mentale Perché no Anche emotiva Quello che ti chiedo Io gentilmente È di Dovunque E comunque Finiscono le cose Per favore Non ascoltare La tua agenzia Non ascoltare La tua agenzia Che sicuramente Ti dirà E ti consiglierà Di non fare più live Insieme a me Perché potrebbe Rovinare la tua immagine pubblica Se devi dirmi di no Dirmelo Dimmelo Lo devi dire te No alla tua agenzia No Ok Ciao Mi dispiace No Ok Però In no Fanno parte Nella vita No Sì Senza no Non si cresce È che la vita Mi ha dato Talmente tanti no Che adesso Sono già vecchio A 29 anni E ne dimostri 37 Sempre colpa di no Può uscire che vorrei piangere Per favore Fa bene al cuore Dice mamma Ma Però non dovresti farlo Da solo Fallo in compagnia Se vuoi qua È una spalla Su cui piange Non tenersi È tutto dentro Scusate Scusate Posso toccarti La pelata Senti Io ti giuro Guarda Poi te ne puoi andare Anche a fare in culo Io ti giuro E questo Che ti faccia riflettere Che se dopo questa live I tuoi spettatori Raddoppiano Per almeno due settimane Due settimane Sei tenuta A fare sesso con me Guarda che tu puoi farlo Anche Se Cioè Forzando le persone Senza consenso Le denunce Arrivano dopo Quindi Prenditi quello che è tuo Non mi Tanto sei abituato No No Prenderti quello che vuoi No Vieni qua Inviti gente Inviti streamer Principalmente donne Perché si fanno più numeri Poi ci provi Fai finta di provarci Magari hai un supporto esterno Un supporto realmente scadente Potrebbe giocare Tornare a Rust O farsi le seghe Da qualche Su qualche altro sito O streamer Aggiungo io O streamer Chiedi Sei fidanzata Squirti Usciamo tre volte Perché cos'è Stai sicuro Di portarle a letto Da quant'è che Non trombi Non parlo Della mia vita privata Devi averla Per poter Parlare Della tua vita privata Senti Sicuramente Io Non scopo Da molto meno tempo Di te Sì certo Se lo fai con persone Che non sono consenzienti Sicuramente sì Allora Cidella Cos'è Hai le tue cose È vero Perché una donna Quando si agita Per forza Al ciclo Però se sei un eroe Con o senza ciclo Nanni Guarda Di granite alla fragola Nella vita Hanno bevute tante Una in più Non mi farebbe Non mi causerebbe Alcun problema Ok Ok Anche se il sangue Le esce Dalla gula Non Mi è mai successa Una situazione del genere Sei sicuro? Eh sì Però tu non ti ricordi Le cose Mi hai detto prima Quindi Eh sì No ma Mi ricorderei Se avessi ucciso Una persona Eh Io Non lo so Ci ho provato Nessuno lo so Nessuno lo so Secondo me Non me la sono giocata male oggi Potevi giocartela meglio Boh Non Non vedo come Onestamente No Tipo togliendoti Simone Brucato Dalle orecchie Ah vabbè Ma quelli erano due sonine In realtà Allontanandoti Eh? Eh? Puppa Come? Ma questa è una cosa un po' toscana Eh Tipo suca Immagino Eh sì Non sono acida Ti sembro una persona acida? No Ti sembro stupida? Eh No Ti sembro una donna? Sì Quindi forse Tra queste domande Hai sbagliato qualcosa? Quale? La stupida? Era quella su cui ero indeciso anche Perché le donne sono stupide? Nonni? Questa è una conclusione che hai Estrapolato te dal contesto Eh Billy io Ti Veramente Vorrei anche Metterti in guardia Verso Qualcosa che probabilmente succederà Grazie mille per la sub Stella Stai attenta alle persone che inviti in live Perché La verità La verità è che Molti cercheranno di approfittarsi Della tua purezza E Ti chiederanno di fare live insieme Solo per Con il secondo fine di Fare sesso con te E scoparti Perché Ciao Paolo Perché È così che funziona su Twitch Quindi stai molto attenta Il mio compito Su Twitch È preparare le persone In funzione di questa Di questo Quindi Beh sì Effettivamente Detto da chi ha preso più pali Che Hai presente Quel format in cui puoi scegliere Bombi o passi Chi tieni Sai che sei uscito tu Contro chi è Diverse persone Vuoi sapere dove sei arrivato No Cioè sì Secondo te No Sono andato fuori La prima Primo tour È arrivato forse In Semifinale E ancora non sapevi Quanto divertente ero Immagina adesso Fra Immagina adesso Boom Il Bergone ha fatto centro Lo sai dove arriveresti te In un mio Bombiolo passi Allora È Chris Fitz Michelle Studi time Che mi sta dimenticando qualcuno No È quarta dai Melina Vabbè Melina non è italiana Italiana Quarta dai Sasha Gray No ma non è italiana Vabbè Però uno Stream Vabbè Fra Cioè Se apri Il Apri Se apri Cioè Sia io che te Finiamo in fondo Alla classifica Cioè Siamo lo scarto Della merda Però Stiamo insieme Sì ma che schifo Scusami Cioè Te in quanto merda Sceglieresti Di stare insieme Alla merda No Cerchi un qualcosa Di superiore Che ti ripulisca Quanto meno Beh Io faccio così Punto sempre No In alto Non mi sembra Perché poi la caduta Fa più il rimbombo Fa male Esatto Siccome godo Nel dolore Allora faccio questo L'importante è godere Kasumi? Non mi piace Esteticamente? Non mi piace Esteticamente? Non mi piace Sei serio o non sei serio? No serio Io ti piaccio Abbastanza Ok Michelle ti piace Sì Quindi verrò sempre dopo le altre Beh Quarta Quinta posizione Come sono finito Anch'io Nella Nella semifinale C'è una differenza Però Ovvero Che se ho scelto di stare con te Perché forse Beh ma chi ho scelto di stare con te? È Simone Brucato Carissa Simone Nonno È presente Quando alle elementari e alle medie Ma anche alle superiori C'era Sì perché era ieri per te Quando Mettevi il banco accanto alla maestra Perché per te hai visto che ti ho visto davanti a Però io non entro dentro Sto fuori Non entro dentro in classe Il mio esempio era dentro in classe Ci credo Giardinetti Parco giochi I bambini dove stanno Fuori o dentro? No no fuori E quindi tu dove stai? Fuori I bambini dove stanno Quando vanno a giocare? Fuori Eh ma in un punto Il mio esempio era dentro Cioè Simone Brucato È il Bambino Accanto Alla Cattedra Cioè che ha il banco accanto alla cattedra E quindi È un po' Una persona che si porta a passeggio ovunque si va Ecco in quel senso E quindi sta nella cuccia Non sta nella cattedra No no sta accanto alla cattedra Sta lì Io ogni tanto gli compri il gelatino Gli fai bravo Eh Nani io le leppi sì E' contento E siamo contenti tutti Hai comunque fatto una bella cosa E tu dove stai? Eh io dove sto? Io Sono Esattamente Al metà della classe Perché è lì Dove stanno le persone No è lì dove sta No è lì dove stanno le persone Intelligenti Perché Davanti Accanto Sei Simone Brucato Davanti Alla cattedra Sei un secchione cringe In fondo Sei un disgraziato In mezzo invece La classe Che ha posizione dove nessuno Ti viene a rompere i coglioni Sono democristiano? Sì Sono democristiano Ho votato Berlusconi? Sì Ho votato Berlusconi Che problema c'è? Non mi faccio nessun problema A dirlo Ho mai picchiato una donna? No Non è mai successo Sei mai andato con una minorenne? Lo sai che ti sorprenderà la risposta? Ma no Cioè sì ma ero anch'io minorenne Con una sola Una sola volta Che è stata la mia prima ragazza Quando avevamo 16 Io ho fatto sesso a 17 anni 16 e mezzo Lo sai cosa Le ho dedicato Alla mia prima ragazza? E meno male Che Silvio c'è No Sbagliato Alla mia prima ragazza Ho Ho dedicato Un video Montato da me medesimo Con Movie Maker Che Era una scarrellata Di foto Nostre Che c'erano fatti Se ti portassi di foto Col bacio Così E via dicendo Nelle situazioni che Avevamo condiviso Quelle poche Con Una canzone In sottofondo La canzone Era questa Sai cosa ho Che la maggior parte Anche io Cosa ho Che la maggior parte Dei ragazzi non ha? Capezzoli pelosi No Sbagliato La Lupidità Sbagliato anche questo Come si dice Pensieri molesti Sbagliato anche questo Evasione fiscale No Però conosco i ragazzi La finanza Mi sono già venuti a suonare Sotto casa Stai attenta Precedenti Zero Maschicamente Ti arrendi? Sì mi arrendo Fra la cosa più ovvia Un bel culasso Un bel culasso da twerk Spam Pera Pem Pem Mi piace il mio Non l'ho mai visto Continua non l'ho visto Però guarda che se lo fai Fai altri Almeno due trecento spettatori Io te lo consiglio vivamente A me non cambia nulla A vedere un paio di jeans Così è troppo Troppo Punto schermati voi Alifanzo Se volete avere Lavoramento Alifanzo Non ce l'ha Non ce l'ha Non ci cascate Non è vero Prova a fare Punto schermati Alifanzo Sarà gratuito E ci sarà tipo Una foto di te Così No Per me un Alifanzo Se deve essere fatto Deve essere fatto bene Faresti mai un Alifanzo Di coppia? Faccio il mio Non mi serve quello di coppia Punto schermativo F Kasi Ehm Come? A chi dicevi scusa? Rifettivi il nome? Z Kha'Zix Kasi Cosa che non sto Io Kasi Io ti ho visto Spammare Emote Di Tum Blursium Nel canale Di Blur Ti ho visto Spammare Emote Nel canale Di Kasumi Sen Ti ho visto In chat Da Poli Fra Basta Riprendi in mano La tua vita Anche tu Non mi riprendi in mano La tua Ti vedo un po' In difficoltà Sai quanto Lui Lui spammerà Emote Ma tu Inviti le ragazzine In live Per fare spettatori Nanni Perché oggi Non hai preparato Il content Vuoi sapere Una cosa divertente Non la preparo Non lo preparo Da tre anni Il content E io invece Sono ancora qua Questo perché Perché Faccio sesso Con lei Tutte le sere Se non ti è abbassata La prima Se non ti è abbassata La prima di arma Questa è la mia seconda No mi avevi convinto Il cazzo Uncino Ah ok I gatti sono un aggiunto Come si chiama il tuo gatto È una femmina o un maschio È una femmina Si chiama Rise Rise? Sì Sì ma la tua ci sta La mia appena mollo la presa Scappa Vedi Sta già cercando Ne vedi fuga E beh C'ha ragione Lei Si fa carezzare Cioè Si fa carezzare sempre però Li metti un dito in bocca Mentre sbadigliano È bellissimo Vorresti provare Eh Ci ho già provato Però non col dito Io vorrei farlo In una picchietta Come gli viene un infarto Cioè tipo Vai a fare la spesa E gli metti un dito Mentre sbadiglia In bocca E ci sta Io invece le picchierei tutte Le vecchie E i vecchi Indifferentemente Li odio veramente Chi sono le top tre persone Che odia il mondo? Rove Chi è? Non so chi è Rove No Vabbè Rove I bambini I bambini Sì E la madre dei bambini E le madri Io invece C'è il ristorante Sì E ti dicono C'è sempre questa scena Tu dove è il ristorante Una volta ogni tanto Per piacere Perché ti piace C'è la scena del bambino Che inizia a rullare E la madre Mangia la pennetta Mangia l'ultima pennetta Dai il bambino Io invece Enrico Brignano Vorrei 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 Non Però non so No Non penso che non posso Non posso dire che odio Vabbè Mario Sturniolo E limitiamoci alle persone E No Apoli non lo odio Neanche Volpescu E i vecchi Direi I vecchi E anche Napoli Secondo me come quarta Ce la metto in mezzo Sì No è vero Effettivamente Qual è l'accento preferito Il tuo accento preferito italiano? Il romano Lo sai che conosco Franchino il criminale Possono effettivamente Le mie conoscenze Farti interessare di più La mia persona Cioè posso sfruttarle Per avvicinarti Alla tela del ragno Ok Ah conosco tante persone Conosco Dario Moccia Non so se lo conosci No Allora no Mi sa che le tue conoscenze Non possono aiutarti Conosco Il Masella Non so se lo conosci No allora Mi spiace ma le tue Leonardo Bru Conosco fra Giorgio Power E se non ti sei ancora bagnata Te ne dirò un altro David John Rubino Ho sbagliato Streamer Anche secondo me E anche quest'oggi Nanni ha carriato Il content Di qualcun altro Eh E nessuno Alla fine Mi paga Per fare queste cose Guarda un po' Annaggia la miseria Si può chiamare altruismo? Certo che si È l'emosina Perché sfondo Quello che sono Vabbè te la do a mia madre Non è un problema Grazie Una persona generosa Sei una persona generosa? Molto Moltissimo Ok Ok Ma è che non ti voglio più Che devo farci Che devo farci? Chiedo scusa Mi impegnerò di più E magari fra un anno Sarò abbastanza per te Eh Eh Ah Ti posso dire che Guarda Ora come ora Ho iniziato da poco Però Secondo me Riesco a scuottare Ancora sui 140 kg Di massimale 145 Azzardo Ma è un mese e mezzo Eh Mi dai Un altro annetto Ti ritorno a 170 180 Tranquillamente Basta Basta Non Non me la sento Io non Non sono un molestatore Quindi non posso Non posso Questo lascialo dire Questo lascialo dire agli altri Gli altri dicono che non sono un molestatore Quindi Però dicono che sei misogeno Sì Ecco Quindi se non sei un molestatore Sei un misogeno Non è vero che sono un misogeno Questa cosa mi ferisce molto Preferiresti essere un molestatore Anche io preferirei essere uomo Secondo me Per poter guidare bene Secondo me Ad oggi Vieni Visto Chiaramente sbagliato In tante le cose Però viene visto peggio In quanto misogeno Piuttosto che un molestatore No forse no in realtà E tra un misogeno No tra un molestatore E un Pedofilo No credo Credo il pedofilo Perché prendi un po' tutti No è vero Cioè prendi la rabbia di tutti Cioè indifferentemente Invece secondo me Ad oggi Se tipo Sei un molestatore Ci sarà sicuramente Qualche uomo Ma anche qualche donna Che la scusa E la giustificazione Ti riesce a trovarla Invece il pedofilo È da sempre Proprio il nemico pubblico Numero uno Secondo me Cioè se vuoi essere qualcosa Di sbagliato nella vita Sì un pedofilo Perché nessuno Te la lascia La passare Eh No no Non c'entra nulla Non c'è correlazione Tra i due Nonostante quello che Dicca Ci sono due cose Beh è stato un piacere Piacere mio Spero Spero di averti fatto sorridere Almeno una volta Oggi Sì Basta quello Sì Poi Per ricordarti che le persone Tutti ti fanno sorridere Poi iniziano a picchiarti o Non sono io queste persone Ricordati Che di persone che riescono A farti ridere e sorridere Ne troverai ben poche nella vita Anche di persone che ti picchiano Quelle secondo me Ne trovi molte di più È più diffuso È più diffuso Sì Cioè secondo me Ci sono più molestatori Che persone divertenti Al mondo È brutto da dire Sì forse hai ragione Forse hai ragione Maradona? Mio padre Non lo so È lì Ha fatto gol Sì Però Se vuoi dire qualcosa Si dice Il Bergone ha fatto cento Che è un modo di dire Da queste parti Per dire Sono riuscito in qualcosa Cioè sono riuscito a ottenere Quello che volevo Grazie per la sub Stella Mi raccomando Entra su Discord Sei vero Va bene Che fin quando non esci dalla chiamata Io non Non esco dalla chiamata No dai chiedi tu No Perché non ho voglia di altabbare cose Neanche io Quindi io posso rimanere qua fino tipo Alle nove Io Chiedi tu ti prego Ciao strozzetta Vabbè se c'è qualcuno che deve lasciare qualcuno sarò io che lascerà lei Scusami Scusami He Grazie a tutti